Roma ha questa caratteristica che spesso rende più complessi tante infrastrutture, però è affascinante e unica, in questo caso è un ritrovamento che ci aiuta, anzi non ci ostacola perché qualifica ulteriormente questo parco d'affaccio che tra l'altro è già a fianco e a ridosso di uno dei punti più importanti, più antichi, più densi di storia, sono accadute più cose qui intorno, diciamo che in tanti altri luoghi, quindi c'è un concentrato di storia particolare e quindi avere l'opportunità di caratterizzare anche sul piano archeologico e storico, oltre che su quello naturalistico, questo parco secondo me è molto importante perché quando noi vogliamo, e per questo abbiamo deciso di investire così tanto sui parchi d'affaccio, che la città si riappropri del suo fiume, lo facciamo non solo dal punto di vista naturalistico, è già moltissimo perché è un'infrastruttura ambientale verde straordinaria, ma anche dal punto di vista storico perché senza il fiume non ci sarebbe stata Roma e la funzione che questo fiume ha avuto nell'antichità era assai più importante di quella successiva, quindi noi viviamo un po' con una specie di paraocchi determinati dai muraglioni dell'unità d'Italia, che avevano una ragione anche essa perché queste esondazioni erano molto negative, ma che in qualche modo hanno un po' occultato un tratto proprio costitutivo della storia della città, quindi riuscire a comprenderlo fino in fondo e ricreare quello che era la vita a totalmente far capire, far comprendere quanto questa era un'infrastruttura ambientale, ma anche economica, sociale, urbana e proprio in questo punto poi c'era una congiunzione sia tra l'infrastruttura fluviale e quelle stradali, quindi è uno dei nodi dell'antica Roma più importanti questo, quindi questo parco può in qualche modo questa riemersione di questi resti così affascinanti, può aiutarci molto anche a raccontare, a spiegare questa componente perché è proprio un nodo in cui si concentra tantissimo, c'è il Ponte Milvio, la Via Flaminia, i muraglioni, la regolazione amministrativa e fisica del fiume, tutto insieme, è una bellissima opportunità di fare un parco molto bello. Grazie.